Grazie alla felice invenzione del vice sindaco Antonella Raimondi, assessore alla scuola insieme a me all'una e mezzo sotto gli scrosci di pioggia, abbiamo trovato quest'altra location, ovviamente io ringrazio le persone che hanno permesso di realizzare questo momento, stanno per raggiungerci la Croce Rossa, i Carabinieri e tantissime altre persone, al momento però se vogliamo aspettare tutti non iniziamo mai, allora voglio dare il benvenuto questa sera agli amici che sono al nostro piante, allora partiamo da quelli che non sono di vetri, allora partiamo dalle comunità di Villa Silvia, un bel applauso! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Che hanno risposto con la loro utenza, si vale a dire i gestori della Ciuma, della Rosa dei Venti, del Risorgimento e della California. Pippo dovrebbe raggiungerci a poco. Naturalmente, naturalmente, un grazie va all'amico Sabato Catapano, artista, che come vedete questa sera ci sta deliziando con una sua opera, poi vedrete perché? Perché non è così come la vediamo, perché è una pittura particolare quella di Sabato Catapano, in quanto con una fonte di calore si vede un altro soggetto. Ringrazio gli ospiti della serata che ci hanno raggiunti e abbiamo nella giuria il collega giornalista della nostra redazione, Alberto Delogatis. Grazie a tutti! 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 la balletta quanti anni avete? Quattro. Quattro a malapena. Ecco, e allora, Lucia, come se è bella anche quest'anno. Bene, però io posso avere un'altra balletta o un balletto di rivolto. Quindi se c'è qualche bimbo che vuole affiancarsi a voi, beh beh, calzate le mani perché sarà poco vicino a noi. C'è qualcuno? Bene, allora tutti affiancherai la mia figlia e la mia figlia. La mia figlia e la mia figlia e la mia figlia. La mia figlia e la mia figlia e la mia figlia e la mia figlia. la mia figlia e la mia figlia. la mia figlia e la mia figlia. la mia figlia e la mia figlia.